La prima volta che l'ho vista non pensavo che sapessi fare tutte queste cose dall'inizio, però no, mi erano tantissimo. Inizialmente, essendoci poca conoscenza, Pina aveva dimostrato più difficoltà nell'interagire con me, ma questa cosa si è superata subito e adesso, essendo la collaborazione di molti anni, lei si fida completamente di me e io di lei e quindi il nostro livello comunicativo è salito di anno in anno in maniera sempre crescente, diciamo, e ad oggi posso dire che comunichiamo in maniera libera, in maniera molto spontanea, lei mi fa capire le sue intenzioni, io le faccio capire i miei sentimenti. Grazie a tutti Questo invece è un esercizio in cui io li dico soltanto con il labiale, la parola e quindi l'oggetto che deve prendere, senza usare il gestuale per vedere se riesce a capire l'oggetto giusto da prendere. Lo faccio fare dopo, diciamo, un lavoro importante di un'ora più o meno, facciamo il cruciverba, poi facciamo il disegno con i puntini che deve, diciamo, disegnare e seguire i puntini e colorare e poi facciamo la pausa. Musica 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 Stare bene Oh yeah Quando io sono con lei